Buon pomeriggio. Devo cliccare per cominciare? Ok. Vorrei dire fin dall'inizio che ho cercato e ho provato di fare tante cose, tutto quello che mi veniva in mente, però di fare uno scambio tra carne di scimmia e sesso non mi è mai venuto in mente, assolutamente. Il cambiamento è certo che è difficile da gestire, non ci sono dubbi a questo proposito, ma vorrei parlare di cambiare mercati di diverso tipo, di diversa natura e cercare di fare qualcosa per cambiare i comportamenti. Quindi vorrei provare a cambiare i comportamenti di cui ci ha appena parlato il professore, e sono d'accordo che è molto difficile effettuare questi cambiamenti, anche perché sono comportamenti su cui tutti quelli che si occupano del settore dell'alimentazione dedicano molto tempo per cercare appunto di cambiare loro questi comportamenti e con molto successo. Quindi da un lato si può far sì che ci sia un cambiamento e dobbiamo ammettere la possibilità che si possano implementare dei cambiamenti anche nella direzione opposta. Diciamo che esistono nella doppia piramide quattro mercati e questa tra l'altro è qualcosa che è stata introdotta da Barilla che merita tutti i nostri complimenti e devo dire anche che i complimenti vanno estesi a Barilla per aver avuto il coraggio in quanto azienda alimentare di affrontare questi argomenti. E' vero anche che si sono beccati un po' di rampogne dai loro colleghi del settore alimentare perché hanno rotto le fila e credo che sia molto importante invece che abbiano dato vita a questa discussione. Torniamo a noi. Diversi mercati, la conoscenza, tanto per cominciare, cioè le idee, i fatti. La conoscenza migliore che porta a dei veri cambiamenti è quella che sorprende, quindi ci fa aprire la mente. Poi un altro mercato è quello dei consumatori, dei consumatori di noi, quindi con strumenti tipo la doppia piramide che possono aiutare a guidare il comportamento dei consumatori. Un altro mercato di riferimento è quello politico in cui è importante ridare un quadro di riferimento ai dibattiti. Ci sono tante discussioni politiche, ci sono tanti che spendono tanti soldi per inquadrare le nuove discussioni. Noi che invece lavoriamo nelle ONG dobbiamo cercare di riformulare le questioni a nostro vantaggio ovviamente. E poi un altro mercato di riferimento è quello della cultura, cioè valori, credi, memi, memi nel senso proprio genetico del termine, ma anche memi nel senso di singole informazioni che convogliano informazioni culturali e che quasi in modo invisibile o quasi in modo impercettibile diventano un nuovo sentire culturale. Questo è un progetto di ricerca che la mia organizzazione che si chiama Environmental Working Group ha pubblicato non tanto tempo fa e si chiama The Meat Eaters Guide, la guida del carnivoro al cambiamento climatico e alla salute. Abbiamo svolto un'analisi del ciclo di vita che parte dagli impatti meno nocivi, quindi frutta, ortaggi, legumi, eccetera, per arrivare poi agli alimenti che sono più dannosi a livello di emissioni di CO2 e su tutta questa scala abbiamo dato anche un'idea di quello che potrebbe essere il vantaggio per la salute individuale e se si potesse imparare a non mangiare carne, cioè non, scusate, a smettere completamente di mangiare carne, ma a mangiare meno carne. Ricordiamoci che appunto questa è la guida al cambiamento climatico per i carnivori, quindi non possiamo dirgli di non mangiarne mai più. Una delle grandi novità culturali, uno dei cambiamenti culturali che abbiamo notato e che va un po' in senso contrario ai messaggi preponderanti che arrivano dal settore alimentare e che abbiamo lanciato l'idea del lunedì senza carne, lunedì senza carne che va avanti da tanti anni e che è già presente in tanti paesi del mondo. È semplicemente una nozione che dice perché un giorno alla settimana, e appunto abbiamo suggerito il lunedì, non pensiamo a quello che mangiamo e sostituiamo la carne con qualcos'altro per la nostra salute e per il pianeta, un'idea semplice che però ha avuto un buon successo. Vogliamo incoraggiare le persone a pensare in modo diverso, ma anche a mangiare in modo diverso. Un altro esempio di spostamento del piano della discussione, in quanto organizzazione ambientalista, noi diciamo sempre che è molto più importante mangiare frutto e verdura per la propria salute, piuttosto che non mangiarli per paura dei pesticidi. Ma ci sono tante persone che non mangiano frutto e verdura per paura dei pesticidi, ma c'è un'opzione alternativa. Abbiamo analizzato 80.000 e passa campioni di test di laboratorio nel Dipartimento dell'Agricoltura americana, abbiamo visto che ci sono vari alimenti che hanno un bassissimo contenuto di pesticidi. Non tutti magari possono permettersi di comprare alimenti biologici, organici, ma c'è un'alternativa da tenere a mente quando si va a fare la spesa, appunto scegliere frutto e verdura che hanno meno pesticidi degli altri. Oppure se vedete quest'altra lista, sempre del Ministero dell'Agricoltura americana, sono questi gli alimenti dove sono state riscontrate maggiori concentrazioni di pesticidi. Il messaggio semplice quindi è quello di cercare di chiarire un po' le idee a tutti quanti e vedere come procedere. Questo non riguarda solo la frutta e la verdura, ma anche l'acqua. Per esempio, ci preoccupa molto la transizione a un mondo in cui si consuma solo acqua minerale in bottiglia. Pensiamo bene a quello che facciamo quando compriamo l'acqua in bottiglia. In questo studio abbiamo dovuto prendere atto del fatto che molte acque imbottigliate non dicono dove è la sorgente, come quando è stata imbottigliata. Negli Stati Uniti, tra l'altro, molta dell'acqua venduta in bottiglia è semplicemente acqua del rubinetto messa in bottiglia con un aumento del prezzo del 1.000-2.000%. Lo stessa cosa l'abbiamo riscontrata quando abbiamo testato l'acqua in bottiglia e abbiamo studiato per esempio gli agenti contaminanti presenti nell'acqua e abbiamo visto che è molto simile all'acqua del rubinetto. Per cui, perché dovrebbe costare il 1.000% in più? Perché non ci limitiamo a filtrare l'acqua del rubinetto? E adesso negli Stati Uniti si sta eliminando un po' l'abitudine di comprare queste bottiglie d'acqua a favore dell'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua che risparmia un sacco di energia, di soldi, di tempo. Non si può fare anche singolarmente, ovviamente, ognuno per sé, ma pensiamo che sia molto meglio ripulire bene l'acqua che beviamo, tra l'altro acqua che di partenza è pulita prima che la guiniamo noi. Una delle grandi novità dell'informazione e della conoscenza da cui stiamo imparando molte cose deriva dal nostro lavoro sui prodotti per la cura della persona. Abbiamo un database online che si chiama Skin Deep e che ha in memoria 69.000 prodotti per la cura della persona in cui abbiamo elencato tutti gli ingredienti con una valutazione dell'eventuale presenza di rischi collegati a questi prodotti. Sappiamo quali sono gli agenti chimici usati e la relativa tessicità che studiamo noi test di laboratorio e quindi abbiamo fatto questi test su tanti prodotti a partire, per esempio, dalle creme solari. Dopo 5-6 anni di questo tipo di lavoro ho avuto la possibilità di incontrare un alto dirigente del settore cosmetico che ha detto che prima di Skin Deep, cioè il nostro sito web, le donne in particolare pensavano di mettersi del trucco dei cosmetici sul viso e adesso pensano di mettersi sul viso degli agenti chimici. E questo è il tipo di contributo che può dare il nostro gruppo di lavoro che adesso si occupa più che altro di alimentazione. Come procedere? Come procediamo? Allora, abbiamo innanzitutto creato una comunità di persone interessate a questi temi. Questo è il nostro archivio di mail che ormai comprende più di un milione di indirizzi. Questi sono i nostri fan su Facebook. Non abbiamo acquistato, tra l'altro, questi indirizzari perché sono tutte persone che si sono volontariamente iscritte tramite i nostri siti web perché hanno un interesse e un penchant per questo tipo di argomenti. Questo è uno dei primi studi che abbiamo fatto a proposito dell'alimentazione. In particolare abbiamo studiato il tema dello zucchero nei cereali venduti soprattutto per i bambini. Abbiamo studiato 85 pasta cereali di cinque grandi società. Le società che, come ci è stato detto prima, stanno combattendo con tutte le loro forze per evitare di pubblicizzare anche volontariamente il contenuto di zuccheri nei loro alimenti per bambini. E tra l'altro, nel 50% dei casi, o anche più, questi cereali contengono il 50% del loro peso in zucchero. E quindi è un po' come dare ai bambini un dolce, un dessert a colazione. E questa è una cosa che vogliamo assolutamente cambiare. E questo ovviamente non ci fa tanti amici nel settore dei cereali. Parliamo un attimo dei sussidi all'agricoltura a New York City. Stiamo cercando di dare un po' una nuova forma al dibattito sui sussidi agricoli. E per fare questo abbiamo raccolto i nomi di ogni singolo percettore di sussidi all'agricoltura. e abbiamo pubblicato nomi e cifre su internet. Nel momento in cui l'abbiamo fatto, abbiamo visto che ci sono migliaia di persone che ricevono i sussidi all'agricoltura a New York City. E che è sorprendente, ma non so se siete mai stati a New York, li avete visti, i campi coltivati? Ma lo stesso a Los Angeles, con i suoi famosi lussureggianti campi, o Chicago, o addirittura nella nostra capitale nazionale. Giuro che in queste zone non ci sono assolutamente raccolti, ci sono solo i sussidi ai raccolti. E una volta che si comincia a far notare questo fatto, magari la gente comincia a pensare che il sistema non funziona così bene, magari i sussidi non li stiamo dando alle persone giuste, sono andati un po' fuori strada. E quindi si comincia a aprire la strada dei cambiamenti di politica. Questo è stato uno dei nostri strumenti più importanti di cambiamento. Alcuni agricoltori non amano molto che si parli di queste informazioni, soprattutto quel 10% dei recettori dei sussidi che ottengono il 74% dei sussidi e delle sovvenzioni. Invece altri agricoltori sono ben felici che abbiamo finalmente parlato di questo tema, cioè il 62% di tutti gli agricoltori americani che invece non ricevono assolutamente nessun sussidio agricolo, tipo gli agricoltori che producono per il settore dell'alimentazione organica. C'è un'enorme crescita del valore delle vendite del cibo organico negli Stati Uniti, che è una novità più che benvenuta. La Slow Food, la Lunedì Senza Carne, tutti questi movimenti e queste tendenze comunicano delle informazioni diverse, un modo di pensare diverso all'alimentazione. Quindi sono novità molto entusiasmanti che riguardano anche i prodotti freschi. Abbiamo visto un aumento della quota di mercato degli alimenti freschi organici negli Stati Uniti, che anche pochi anni fa era impossibile prevedere. Quindi molto entusiasmante queste novità. in California, nel Midwest, eccetera, eccetera, ci sono sempre più produttori che non usano tonnellate di fertilizzanti chimici e sintetici basati sull'azoto. Quindi una bella novità. Il quadro invece è diverso se consideriamo la presenza delle coltivazioni organiche sul territorio, che non è una bella cosa. Utilizziamo 814 milioni di agri di territorio negli Stati Uniti per la coltivazione e per l'allevamento. E qual è la proporzione organica di questa quantità di agri? Ecco, ve la faccio vedere. Come non la vedete? 0,57% del territorio che adesso è dedicato a delle produzioni organiche certificate. Quindi neanche 5 milioni di agri. nonostante tutto il successo di mercato degli alimenti biologici organici non corrispondono a un altrettanto successo nella coltivazione. E tra l'altro questo può anche confondere un po' le idee. Per esempio, questa è una delle cose più deludenti che abbiamo visto recentemente negli Stati Uniti. La mela in cui opertina dice lasciate perdere il biologico, mangiate cose locali. ma davvero sono così in concorrenza o una cosa biologica o è locale e chi l'ha mai detto? Ora, il vero problema è questo. I farmer's market che corrispondono più o meno ai chilometro zero sono un fenomeno in enorme espansione. Adesso sono più o meno 7 mila negli Stati Uniti punti di vendita a chilometro zero. ma dobbiamo raffrontarli a questa quantità 257 mila punti di vendita di fast food. Ecco, va la pena di combattere questa battaglia mentre il biologico rispetto al locale insomma vanno meglio sia l'uno che l'altro. E come mai abbiamo una presenza così limitata sia del cibo biologico che di quello coltivato localmente a chilometro zero sul mercato ma anche sul territorio. E tra l'altro ecco un altro esempio del malfunzionamento del nostro sistema dei sussidi. Nel 2004 una singola azienda di coltivazione del cotone ha ottenuto 2 milioni di sussidi dal Governo federale in un unico anno. Nello stesso anno tutto il bilancio di ricerca americano per tutti gli Stati Uniti sulla coltivazione biologica è stato della stessa cifra altrettanto 2 milioni di dollari quindi c'è poco da sorprendersi se non facciamo che progressi. Questo è lo studio che è stato condotto è uno studio molto interessante tra l'altro è stato condotto qualche anno fa quando è stata pubblicata la serie precedente delle guideline alimentari e ho studiato con attenzione questa linea guida per capire il futuro dell'agricoltura americana. Se cerchiamo selettivamente di raggiungere l'obiettivo di aggiungere più frutta più verdura più alimentazione integrale nella nostra dieta che impatto avrà tutto questo cambiamento sul paesaggio e sul territorio? Allora il cambiamento di destinazione dei terreni necessario a questo scopo riguarda solo 7,4 milioni di acri quindi niente di grave direi soltanto l'1,7% di tutte le nostre superfici coltivate per arrivare al nostro obiettivo quindi non è per questo che non si procede su questa strada è che non c'è abbastanza richiesta come si diceva prima non si mangia ancora abbastanza degli alimenti che consigliamo quindi come si fa a costruire questa richiesta? Bisogna partire da qui Ann Cooper una mia amica e chef che è praticamente una piratezza della mensa scolastica ha proposto una idea semplicissima perché non facciamo dei salad bar cioè dei bar vegetariani in tutte le scuole degli Stati Uniti un altro mio amico ha proposto che poteva confezionare l'insalata con un costo tanto basso quanto quello che adesso sosteniamo per dare ai bambini nelle scuole americane dei cibi poco salutari e quindi dar loro i vantaggi della frutta e delle verdure fresche ogni singolo giorno non si procede a farlo perché troppi interessi sono pronti a scoraggiare queste novità e poi tra l'altro non si tratta solo dei vantaggi che si ottengono riducendo l'impatto sul cambiamento climatico e per non parlare dell'acqua che è anche questa ovviamente è un altro grosso vantaggio un altro vantaggio è che appunto se si va sulla parte bassa della piramide alimentare quindi frutta verdura e alimenti naturali si ha anche una minore assunzione di agenti tossici nel nostro organismo un giorno di raccolta di campioni di sangue americani ci ha fatto molto aprire gli occhi abbiamo cercato la presenza di 413 agenti chimici nei campioni di sangue appunto degli americani e molti degli agenti chimici che abbiamo trovato erano legati in qualche modo all'alimentazione o ai pesticidi e ai conservanti o comunque all'alimentazione in queste persone che abbiamo testato abbiamo trovato appunto 287 agenti chimici tossici nel proprio sangue nel loro sangue e molti di questi agenti chimici venivano soprattutto dall'alimentazione non sappiamo di preciso cosa sia successo poi a queste 10 persone in cui appunto abbiamo trovato 287 agenti tossici abbiamo sentito però parlare anche oggi dell'importanza di un cambiamento delle abitudini alimentari anche per la presenza appunto di eventuali agenti tossici quindi non sappiamo cosa è successo a queste persone ma sappiamo che quando sono state esposte a questo tipo di contaminazione avevano tutti più o meno questa età ecco il significato poi di questo fatto signor Presidente meriterebbe tutta un'altra discussione grazie a tutti grazie a tutti